è chiusa segno? è chiusa e bloccata per me se lo chiudo? si tutto chiuso, modifica com'è la modifica? per trasferimento al box agro riede informazione dall'india papa india charlie chilo, notifica due persone a bordo per trasferimento al box agro india papa india charlie chilo, riede informazioni, pista 3-4 sinistra, vento variabile 2 nodi, broken 4000 piedi, QNH 1004 1-0-0-4, QNH, Charlie Chilo perché va avanti? è perché è un pochino, va tirato si sta appannando, Ennio, però, eh? chi? il vetro india papa india charlie chilo, di informazioni, confermate con piano di volo confermiamo piano di volo, Charlie Chilo india papa india charlie chilo, di informazioni ricevute, riportate pronti alla partenza riporteremo, pronte alla partenza lima chilo, dirottori chiusi e bloccati, cavo teso, pronta alla partenza si sta appannando, vediamo se spanno, appena partiamo, si pulisce dentro, 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 dentro fuori 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 50 metri non ho fatto bene rifare quei due voli si si ma l'allotamento e il sottotitamento non ho fatto bene rifare il sottotitamento ho sentito il chilo, ho attizzato le orecchie, hai capito come? oggi è perfetta la meteo per fare questa cosa eh? ti pare che sì o vediamo anche l'altezza delle minuti per regolarci o che noi lasceremo l'area della box a una quota di sicurezza per poter rientrare e poi fare nella chiusura di programma un bel sottoletto completa scivolata a vostra o a sinistra ok? poi Ennio, una di queste se è possibile e possiamo, non oggi ovviamente, alterrare con le sue altre quattro? beh, questo lo faremo poi, faremo il segno perché la 3.4 è un atterraggio che ho fatto poche volte, capito? sì, ok va bene, vi potete saperlo ma è tale che ci rivolgiamo in consenso cioè, se lo devo fare perché lo devo fare lo faccio però, Ennio, non sono sicuro un po' di questi... ahah perfetto un settino eh? sì, tanto ma qua sono 8,7 gradi un po' di questi... un po' di questi... la... 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 dai... veiciamo... Grazie a tutti. 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 Richiamalo dolcemente. Grazie a tutti. 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 in prenotazione india papa india cialdito in prenotazione pista 1 6 sinistra india papa india cialdito l'informazione di ceduto riporterà sotto vento sinistro riporterà in sotto vento india cialdito riedi bravo bravo guarda che bella virata guarda si si pulita guarda che virata pulita così devono essere certo se discute allora invece di finirla la virata quando le facciamo si 23 mantieni queste grazie a fondo forse anche la parola serve per mettere la direzione vero in questo caso da un pochino di barra ok l'ho provato a fare questo circuito anche a casa e con simulatore si e giocando con la barra riesce a dare la direzionalità di sotto vento avanzato le informazioni india papa india cialdito il sotto vento avanzato prossime alla virata di base guarda la velocità come è quindi papa india cialdito le informazioni di ceduto riporterà il grande finale di stavolta riporterà a papa india cialdito io provo a farle ma cialdito le informazioni di ceduto riporterà il grande finale di stavolta mi chiamo papa india cialdito le informazioni di ceduto a mano a sinistra metto a mano pazza che basti che si no ma vai india cialdito le informazioni di ceduto a mano ma vai india cialdito le informazioni di ceduto a mano se devi fare fuori campo e lo so e non lo so questo lo so lo so lo so questo amore mio fin da terra facciamo la scivolata vero? guarda eh proprio proprio al proprio prima della fine fermo così avanti così non avanti avanti eh perché se adesso non c'è tanto no 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 adesso va a girare il tempo è giudicato la per la l'ultima 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 bravissimo, bravo, guarda che io non dico bravo, non lo dico, questo è il secondo volo che facciamo insieme, lo sai, ti ricordi il primo l'ho fatto durante il corso? no, non mi ricordo, eh sì, mi hai detto che c'è una mano felice